Tragedia questa mattina a Manfredonia, forse per via delle avverse condizioni meteorologiche o per colpa di un improvviso malore accusato dalla vittima, intorno alle 8.30 una piccola imbarcazione a Remi con a bordo un uomo di 72 anni, uscito per pescare, si è improvvisamente rovesciata nelle acque antistanti il porto. L'uomo è caduto in mare ed è annegato. Alcuni pescatori, notando la barca rovesciata, hanno alertato la guardia costiera e gli operatori del 118. Inutile l'intervento dei sanitari che dopo il recupero del corpo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.